L'AMDOS scende in campo per la radioterapia all'ospedale Frangipane. Quali sono le richieste che voi portate all'attenzione della politica? Allora, le richieste innanzitutto partono da cittadini, perché ci sono molti cittadini che non si possono più curare. Ariano ha un ospedale grandissimo che può ospitare l'acceleratore lineare e quindi la radioterapia. Noi dobbiamo essere tutti compatti, dobbiamo essere uniti. Quando AMDOS scende sul territorio, scende e porta avanti una battaglia, una missione. Questa missione AMDOS non la può fare da sola, quindi i cittadini devono assolutamente partecipare con AMDOS. Questo è il messaggio. Quali sono i dati? Cioè adesso i cittadini dove si rivolgono? Adesso i cittadini per la maggior parte si rivolgono ad Avellino, che ormai è satura, per cui per avere un appuntamento da loro passano mesi. E la radioterapia è una terapia salvavita, non è una terapia che te la scegli, la devi fare e tutti devono avere questa possibilità. Perché anche Benevento è satura, quindi è impensabile che dobbiamo fare i viaggi della speranza, anche perché economicamente non ce la si può fare. Un'ultima domanda, Presidente, per un appello quindi alla politica, ai cittadini, ma anche alla regione Campania. Sì, allora noi l'appello che facciamo a De Luca è quello di controllare i documenti che noi già abbiamo preventivamente mandato per fargli capire l'eccellenza che abbiamo all'ospedale d'Ariano. Abbiamo tutto quello che ci serve per impiantare la radioterapia, quindi l'appello è direttamente a lui come Presidente per cercare di farlo venire anche qui d'Ariano se è possibile e far visionare il nostro frangipane.